Le Access Control List, o in breve le ACL, sono un ottimo strumento per condividere o trasferire file. Vediamo come possiamo configurare un oggetto in modo da essere pubblico, da avere delle ACL pubbliche. Innanzitutto carichiamo, potrebbe essere un'immagine o qualsiasi altro file, e entriamo nella sua pagina di configurazione, dove possiamo andare a specificare settaggi riguardo l'oggetto. In fondo abbiamo una sezione ACL, e possiamo dare i permessi a Authenticated Users o All Users. Dando permessi di lettura a All Users, noi stiamo rendendo questo oggetto pubblico a tutti gli utenti su internet, quindi salviamo i nostri cambiamenti. A questo punto il link della preview dell'oggetto è pubblicamente accessibile, quindi anche a una pagina privata al di fuori della sessione. Questo è molto comodo se vogliamo condividere il file con qualcuno, o anche servire un sito web con delle immagini o degli asset statici. Per assicurarci che questo file sia sempre disponibile, possiamo anche andare a abilitare il legal hold. In questo modo il file sarà immutabile e saremo protetti da eventuali cancellazioni accidentali. Grazie.